Allora, Alice, hai deciso o no di regalarmi questo fantastico vestitino che indossi? Allora sei un gatto gay! Come ti sei fatta quei tagli? Stavo cucinando il bianconiglio con le melanzane. Le melanzane fritte? Adoro le melanzane fritte! Che cosa vuoi da me? Mi sembra semplice, ancora non ci arrivi, voglio il tuo vestitino, mi starebbe una favola addosso a me, tu non credi? Non lo avrai mai! C'è lo stesso modello su ebay, compralo lì! Ma perché ti comporti così con me? Io sono gentile nei tuoi riguardi. Non me ne fotte! Allora sei una vacca! Solo sabato e domenica, oggi è venerdì. Allora verrò domani, bye bye!